L'amministrazione comunale sta pensando a trasferire la parte del mercato, ora il Piazzale del Sole, nel nuovo complesso dell'Angelo Mai. Qual è la vostra posizione? Allora, innanzitutto bisogna ricordare che il mercato Fira di Clusone è uno dei pochi lombardia che si svolge durante tutto l'arco della giornata. Tra l'altro, anche su nostra segnalazione all'amministrazione comunale, da poco è stato riconosciuto come mercato storico e questo permetterà di avere proprio anche dei finanziamenti ad hoc per migliorare il mercato stesso. Per quanto riguarda l'ipotesi del trasferimento del mercato dal Piazzale del Sole a Piazzale Manzur, ricordiamo che ormai da decenni il mercato si svolge a Piazzale del Sole e modificare gli equilibri commerciali che si sono creati in questa fase economica di ristagno è molto pericoloso, soprattutto se non ve ne sia la necessità. Tra l'altro, dividere il mercato in tanti tronconi sarebbe deleterio, sia per i commercianti in sede fissa, sia per i commercianti ambulanti. Secondo l'amministrazione, questo trasferimento è soprattutto per motivi di sicurezza, a causa delle auto che lunedì vengono parcheggiate sulla provinciale per Villa Donia. Cosa ne pensate? È vero che le auto parcheggiano lungo la provinciale per Villa Donia, però la soluzione non è certo quella di spostare il mercato. Tra l'altro, la soluzione è di una semplicità estrema. Nel Piazzale Manzur dovrebbe essere ripristinato, come era precedentemente ai lavori, a parcheggio libero tutti i giorni. Questo favorirebbe sicuramente anche lo sviluppo commerciale di quell'area e inoltre favorirebbe l'accesso al centro storico degli utenti. Non dimentichiamo inoltre che un parcheggio in quella posizione favorirebbe anche notevolmente l'accesso dei fedeli alla locale Chiesa del Paradiso.